Chiarirò agli inquirenti di essere estraneo ai fatti contestati e chiederò al più presto la revoca del provvedimento interdittivo. L'ingegnere Elio Sannicandro respinge l'accusa della procura di Bari di aver ricevuto una tangente di 60.000 euro per indirizzare la giudicazione degli appalti relativi ai lavori sul dissesto idrogeologico in favore delle aziende dell'imprenditore di Lucira Antonio Di Carlo. Accuse che sono costate a Sannicandro l'interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi. Il presidente della regione Michele Emiliano non ha atteso ulteriori sviluppi dell'inchiesta e ha subito proceduto alla nomina di un nuovo direttore dell'asset e delegato per il dissesto individuandolo nella figura dell'ex generale Salvatore Repolo. La difesa di Sannicandro proverà a far leva sulla mancata giudicazione dei tre appalti contestati all'imprenditore di Lucira finito in carcere con le accuse di corruzione e turbativa d'asta. In una delle conversazioni intercettate dalla Guardia di Finanza Di Carlo si lamenta con una sua collaboratrice proprio delle gare assegnate a partecipanti diversi dalle aziende da lui indicate. Il GIP Giuseppe Battista ha nel frattempo disposto nei confronti di Sannicandro il sequestro di 51.500 euro che in aggiunta agli 8.500 ritrovati nel suo appartamento in una perquisizione del 2020 fanno esattamente la cifra corrispondente alla presunta tangente intascata dall'ormai ex direttore dell'asset per il quale la procura aveva chiesto i domiciliari ma il GIP ha ritenuto sufficiente l'interdizione dei pubblici uffici perché ha scritto la commissione dei fatti illeciti emersi a seguito delle indagini e legata alla titolarità di una funzione pubblica privata della quale Sannicandro non potrebbe reiterare alcuna condotta illecita. Il giudice ha anche sottolineato come Sannicandro abbia pressoché svuotato al 30 settembre 2020 il proprio conto corrente operando numerosi bonifici quasi sempre dell'importo di 5.000 euro in favore dei familiari e un anno dopo abbia ceduto quanto di sua proprietà alle sorelle le quali a stretto giro gli hanno di fatto restituito il denaro bonificato in occasione delle compravendite immobiliari. Le operazioni nel loro complesso, scrive sempre il GIP, rivelano l'intento di occultare asset suscettibili di sequestro e dimostrano una non comune scaltrezza. Nell'inchiesta in cui sono coinvolti Sannicandro e Di Carlo sono indagate altre 21 persone tra imprenditori e funzionari pubblici, 9 delle quali raggiunte ieri da misure cautelari. Secondo gli inquirenti a vario titolo addomesticavano e manipolavano procedure di gara, inerenze a lavori eseguiti nella città metropolitana di Bari e in diversi comuni della provincia di Foggia attraverso un giro di tangenti da oltre 100.000 euro.